Ho il piacere di leggervi un testo per me impagabile, che campeggia in buona sostanza in full position nella mia biblioteca, Il piacere del testo di Roland Barthes, edizioni in Audi. Se accetto di giudicare un testo secondo il piacere non posso lasciarmi andare a dire questo è buono, questo è cattivo. Niente gradatoria, niente critica, giacché questa implica sempre una mira tattica, un uso sociale e molto spesso una copertura immaginaria. Non posso dosare, immaginare che il testo sia perfettibile, pronto a entrare in un gioco di predicati normativi. È troppo questo, non è abbastanza quello. Il testo, lo stesso accade per la voce che canta, può solo strapparmi questo giudizio, per nulla aggettivo. È così. E ancor più, è questo per me. Il per me non è né soggettivo né esistenziale. Ma Nicciano, in fondo, è sempre la stessa domanda. Che cos'è per me? Il brio del testo, senza di cui in fin dei conti non c'è testo, sarebbe la sua volontà di godimento, proprio laddove supera la richiesta, oltrepassa il balbettio, e da dove cerca di straripare, di imporre il sequestro degli aggettivi che sono le porte del linguaggio da cui penetrano affiotti ideologici e immaginario. Testo di piacere, quello che soddisfa, paga, dà euforia, quello che viene dalla cultura, non rompe con essa. È legato a una pratica confortevole della lettura. Testo di godimento, quello che mette in stato di perdita, quello che sconforta, forse fino a un certo stato di noia, fa vacillare le assise storiche, culturali, psicologiche del lettore, la consistenza dei suoi gusti, dei suoi valori e dei suoi ricordi, mette in crisi il suo rapporto con il linguaggio. Ora è un soggetto anacronistico colui che tiene tutti e due i testi nel suo campo e nella mano le ridini del piacere e del godimento, perché partecipa nello stesso tempo e contraddittoriamente all'edonismo profondo di ogni cultura che entra pacatamente in lui sotto la veste di un'arte del vivere di cui partecipano i libri antichi. È la distruzione di questa cultura, gode della consistenza del suo io, è il suo piacere, e cerca la sua perdita, è il suo godimento. È un soggetto doppiamente scisso, doppiamente perverso. Come vedete è un pesto piuttosto complicato, di non facile lettura, però molto interessante e molto penetrante. Era Roland Barthes, Il piacere del testo, un classico della critica letteraria. Grazie.